Prestava denaro anche con tassi del 240% il presunto usuraio al quale i carabinieri di San Vitaliano su delega della procura di Nola hanno notificato una misura cautelare. Le indagini sono partite dalla denuncia di una delle vittime a Scisciano in provincia di Napoli, la quale anche grazie al sostegno di una locale associazione di volontariato si è rivolta ai carabinieri. L'arresto dell'indagato è scattato nei primi giorni di ottobre del 2023 e durante una perquisizione nella sua abitazione sono state trovate ingenti somme di denaro e un libro mastro contenente la contabilità dell'attività usuraia con annotazione dei nomi delle vittime e a margine le somme di denaro dovute. I carabinieri sono riusciti a individuare anche le altre vittime che poi hanno confermato di essere cadute nel giro di usura dal quale non riuscivano a uscire a causa degli elevatissimi tassi di interessi applicati anche del 240%. All'indagato che si trovava già nel carcere napoletano di Poggio Reale viene contestato anche il reato di estorsione per costringere le sue vittime a pagare le teneva sotto pressione con le minacce. Grazie agli approfondimenti investigativi all'indagato sono stati ora contestati altri prestiti usurai risalenti ai mesi di marzo 2021 e ottobre 2023.